I know there's no turning back E-oh, e-oh I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that E-oh, e-oh I'll play it on your face just to make you go take it back E-oh, e-oh I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad E-oh, e-oh E-oh, e-oh Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring e siamo nella chiesa del pellegrinaggio e stiamo ancora cercando di capire perché non c'è una statua di Marika ma c'è una statua di Stotizio qui e soprattutto chi è Stotizio Vediamo se questo spiritello ci dà informazioni utili Il mausoleo Brullica, culla del semidio senza anima Oh Marika, eterna regina, egli è il tuo figlio indesiderato Figlio indesiderato, la statua? Non lo so, Brullica di cosa? Poteva essere più vago costui? No, va bene, grazie, arrivederci signore Eh, eh Ce n'era uno che viaggiava già però, l'ho visto Eh, yeeeh Maddo ste spade quanto rotte Belle loro Scusi lei Per caso voleva fare qualcosa? Mi scusi? Non l'ho preso Sì che l'ho preso, con la puntina della spadina Spada curva da bandito Non del bandito Grasso sanguinante Che bello Aspettate, adesso ci guardiamo un secondo Dicevo, che bello il grasso sanguinante che ha tipo dei graffi sopra Dov'è? Ho visto bene Sì, guarda, tipo dei graffi sopra Spada curva con la lama leggera a forma di mezzaluna Diffusa tra i banditi che imperversano l'indomani della disgregazione La lama ormai è arrugginita, bla 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 Maneggiata con destrezza, neanche troppa in realtà E se noi prendiamo altri falcioni, possiamo fare il dual di falcioni Wow, parecchio curva E parecchio veloce Vabbè, per me ora tutto è veloce, visto che sto facendo una dual di spadoni Ma noi preferiamo la possanza, la velocità Perché vogliamo la morte rapida dei nostri nemici Forse è anche per questo che sto obliterando tutte le boss fight che trovo Perché le mie spade sono fortissime al momento Scudo di ferro placcato È uno scudo dorato, va bene Eh, torrent Tu speri che io non lo faccia, Thor Ma io lo farò Ma tanto tu hai gli zoccoli preensili Ti incolli dappertutto, vedi? Problemai Mica hai paura tu dei danni da caduta Perché mica li senti tu Spavento, mio Dio, che spavento Ma dai Vieni qua E niente, oh È destino che io non uccida questa creatura Alleluia Ce ne sono altri? Non sembra Eh, volevi, eh E invece Dove va quello lì? Se tituba Io non titubo Eh, caro mio Ramo ammagliatore Ramo ammagliatore Che se non mi ricordo male C'era nei doll iniziali, mi pare Ramoscello su cui è stato inciso In oro puro Un incantesimo Oggetto da creazione Consumo APA per ammagliare i nemici colpiti Reclutandoli come alleati per un periodo Michella Lempireo È molto amato E a quanto pare Sa come vincere le simpatie Del prossimo Michella Lempireo Che cacchio vuol dire Empireo Grazie Google Che ci viene in soccorso Empireo Nella cosmologia medievale Cielo di luce spirituale O sede dei beati Che avvolge l'universo fisico Deriva dal greco Empirios Ardente Quindi Michella Lempireo L'ardente Perché è un tizio caliente È uno hot È uno fico Perché lui ci arma con la vista Quindi è uno molto molto bello Dove lo trovo Michella? In questo mondo popolato da obrobri di morte Voglio vedere l'uomo bellissimo che ci arma a vista Dov'è? Troviamolo Subito Iella Dove si nasconde questo bellissimo uomo? Allora abbiamo finito da questo lato Allora ragazzi Dopo aver fatto Tutto il giro Tutto il giro Anche qua sotto Siamo arrivati Al punto che è notte Quindi ora noi prendiamo Il nostro turrent E prima di andare avanti O meglio Prima di andare verso Quest'alberone Perché voglio esplorare Quest'area bianchiccia Adesso Prima di andare lì Ci facciamo una bella corsa Tutto qui Tutto qui di notte E vediamo se spuntano cose Perché dopo aver trovato Il cacciatore cinereo Adesso io ho questi dubbi Esistenziali potenzialmente Quindi siamo dalla parte giusta No dobbiamo andare dall'altra parte Vai Qui c'era la grotta Esatto Voi direte Messi stai facendo di tutto Per evitare quel ponte Sì 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 Però ci andremo Dai Giusto per completismo Madò che saltone Trento Come fai a non romperti Le tibie Tutte le volte Cavali hanno le tibie Credo di sì Chi lo sa Corri Ok Vabbè Non voglio dire Vabbè Allora amico mio Ci penso io Se tu stai a cincischiare Scusami eh Cioè adesso Io ti ho dato la possibilità Di fare qualcosa Nella tua vita Ma eh Sai come Se non la sfrutti Eh La sfrutto io Quindi questo ponte È tra virgolette Sicuro Non c'è niente Di pericoloso Qui a parte Un bestiolo Con gli occhi Rossi Perché è notte Chissà perché I semi umani Di notte Hanno questi occhi Rossi incredibili Chi lo sa Ok ragazzi Mi sono fatta Una corsa Piuttosto veloce In realtà Per tutta la Quest'area verde Diciamo così È ancora notte fonda Roba sta morendo Non si sa Perché per come Ma lo accettiamo E non ho trovato Assolutamente Niente Quindi adesso Vorrei seguire La via Più o meno Dritta davanti a noi Per arrivare A quel simbolo Del grosso albero E vorrei vedere Che cacchio è Questo grosso albero Qua si è chiuso Ok Stiamo andando Verso quell'alberone Potrebbe Salve Salve Non ho voglia Di combattere No no Mi ignori Mi ignori Lasci perdere Chissà se mi droppo Pesti del suo Equipaggiamento Magari l'arma Che ne so io Ma al momento Ho altre cose Per la testa Tipo andare Per di qua Ah Buonasera Signora statuetta Indicatrice di dungeon Lei mi porterà Nuova morte O nuove avventure Con loot interessante Chi lo sa Chi lo sa Inizio a pensare Che quelle medusine Appaiano solo di notte Però sono carine E coccolose Non mi voglio Di attaccare Le povere medusine Tu dove mi mandi? Dalle medusine Perché sono carine E coccolose Bravo Bisogna essere Più aggressivi Di loro Non sono andata A parlare Ora che ci penso Non sono andata A parlare Ora che ci penso Con Vare Dopo che sono andata A parlare Con le due dita Marga Ok allora Andiamo a cercare Il dungeon Dopo Questo dopo Volevo fare Il dungeon io Che credo sia Qua sotto Penso Non lo so Dalle medusette Piuttosto Noi abbiamo trovato Tipo Tempo e tempo In memore fa Il falco da guerra Vedi Posso usarlo 52 PA Sì in teoria Potrei usarlo E dice Un falco da guerra Di gran tempesta I cui artigli Sono stati tranciati Di netto Per innestare Al loro posto Delle lame affilate Come rasoi Che è la spada Che stiamo usando noi Quando usiamo Le spadine piccole Caduto il suo padrone E con le ali ferite Il falco È morto Fissando solennemente La sua vecchia dimora La tempesta Gli aveva fatto Da culla Oh Povero Pucci Pucci Però è un maledetto Da combattere Quindi Anche un po' meno Pronti Vai Mi è appena venuto in mente Che dovrò evocarli Nella boss fight Però se voglio provarli Ma non vorrei evocarli Nella boss fight Questi falchi Catacombe Di guardia sepolcro Ok Ma è solo un oggetto Ok Le abbiamo comprate Per un motivo Ma ce ne vuole una sola Guarda che bello Ok 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 Perché non stiamo rollando E saltando Quando ti ho detto Yo-Yo Ho premuto due volte E non ha saltato Per qualche motivo E poi Yeah Questa è una statua nuova Non me la ricordo Ricettaria del guerriero Nomade 9 Vaso del rancore Viola sepolcrale Scheggi di osso umane L'uso Consuma PA Lancialo per evocare apparizioni Che braccano Febbrilmente i nemici Anticamente i morti Venivano bruciati Usando la fiamma spettrale E le loro ceneri roventi Davano luogo Alle apparizioni Dovrei provarle Tutte queste cose Lo so Non creo mai Un tubazzo di nulla Dovrei mettermi A creare più roba Lo faremo In futuro Non ora E qua ci sono Le schede Va bene Tanto noi siamo Fortissimi Con questi spadoni Aia Ok E E E Ok Sembrava una fiammata La mia domanda E perché qui Avevo visto bene Allora No Perché Queste cose Cosa schifo Devo battere In questo dungeon Oh no Potrebbe essere Lo schifo Che sta uscendo Dalle gambe di Roge No Non sembra Questo ha dei peletti Che non mi pare Avessero Quelle schifezze Che ha Roge Oh schifo Io speravo Che almeno qui Queste porcherie Con gli occhi Non le avrei più riviste Queste bloodbornate Non le avrei più riviste E invece Guardate Guarda Se devo trovarmi Gli occhi Incastrati Dappertutto Pure qua Sono in pesante Figurati Ma chi se ne frega Voglio dire Tanto No La lucitta Non l'ho mai colpito Guarda Ah si l'ho colpito Perché sparava Lo stesso Allora Eeeh Muro invisibile No Ah salve Scusi L'ho disturbata Non volevo Volevo scoprire Muro invisibili Io E' che si alzano Tutti qua Vabbè solo due No un po' di più di due Allora ma vedete Salire qua sopra E attivarlo Oh sono caduta Però Ma va bene uguale No certo Ha funzionato Comunque Com'è che si è attivato Prima Ah ecco Aia Cosa Diavolo E' appena Successo Ragazzi Va bene Mi hanno spiazzato Un attimo Non me l'aspettavo E ho iniziato A prendere fuoco A ripetizione Cacchio Guarda ste test Ne abbiamo trovate altre due Allora aspetta Proviamole tutte e due Adesso Allora Grazie Va bene Andiamo No Si fa così Andiamo Ok Bisogna saltarci molto vicino Per farlo salire Mi avevate detto Di salirci sopra Nella tomba Dell'eroe degli alacri Per uccidere Quel coso multibraccia Effettivamente E' una cosa Che avrei potuto pensare Anch'io Ma per qualche motivo Non ho mai provato A saltarci sopra Però dai Abbiamo trovato Un altro pezzo di dungeon Così Quindi grazie Ehi Ma hai infilzato Con una freccia Ma che figlio Eh non lo sento più Il tintinio E' scappato Si Se c'era E' scappato Ma hai rotto Le balle Tu ok Mi giuro Sentivo un tintinio Forse era qua Dentro C'è ancora un muro Guarda pescare amanzia Ma non credo Che si romperà Ok Ma adesso mi sorge Il dubbio Che ci fossero Anche negli altri dungeon Queste radici Non le ho notate io Il che sarebbe Molto strano Perché vorrebbe dire Che non le ho mai notate Guardando tutto due volte Perché io monto Anche quello che gioco Quindi Doppia vergogna Su di me Se non le ho visti Ah giusto Io ho trovato Questa cosa L'ho trovata Nel castello di Gran Tempesta Dov'è Eccola qua La torcia Inastata Che però Non puoi sollevare Per fare luce Peccato Ti fa luce Mentre vai in giro Ma Io non mi ricordo Di aver visto Ste cose Con gli occhi Sinceramente Se le ho viste Non ci ho fatto Proprio caso Perché io mi dimentico Di leggere Le descrizioni Delle cose Che raccolgo Non mi ricordo Nemmeno più Chi me l'ha data Questa cosa Il coso squamato Lui La progenie squamata Che abbiamo trovato Nelle grotte Di Morn Ok Quando i senza luce Abbandonavano la capitale E l'interregno Con il loro lord Si dice che Solo una barca Fu lasciata Indietro Abbiamo un lord Iella C'è un signor Capo dei senza luce Che deve saperne Appacchi Di quello che succede Dobbiamo trovarlo E sperare che ci parli E non ci randelli Sul naso Siamo in Mediorol In Mediorol Che è un termine tecnico E abbiamo gli spadoni E direi che va bene così Apriamo subito Begli avvelinelli Eccoci qua Con lo schifo su Proprio Ombra Cimiteriale Wow Wow Si teletrasporta Ok Veloce Si avvelena sicuro Sta roba Guarda Ma sicuro proprio No Belle quelle armi Le voglio Ma che cavolo È sta creatura E vabbè Non la vedi attaccare Perché esce dal fumo E attacca Siamo vivi È Molto 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 Aggressiva E non si stanna Neanche Cioè Nonostante sia un arbustino Sottilissimo Non barcolla mai Tu Il fuoco Il mio drago Come lo vedi Già Il mio drago Non ti piace Temevo questo Lutel Senza testa Peccato che non mi ha dato la sua arma Sembravano delle versioni dual Molto più piccole Della sega lancia Di Bloodborne Cioè Quando le apriva per attaccare L'animazione era molto simile Mi sarebbe piaciuto avere quell'arma Sembrava molto bella Ce ne sono molti di più qua Di corpi Ah Ok E qui non hanno Allora sì ok Sono ammassi di corpi Però non sono Cioè quelle sono radici nere Aia Ci ho pensato solo ora Le radici mortali Potrebbero essere collegate Qui praticamente dice Che la runa della morte Usata per uccidere il primo semidio Si è sparsa nell'interregno Attraverso l'apparato radicale Del grande albero Quindi potrebbero veramente Essere radici mortali quelle Però perché hanno gli occhi Non c'è ancora dato saperlo Però potrebbero essere collegate Queste cose E anche questo dungeon È fatto Ne usciamo vittoriosi Con più domande Che risposte Ma è normale Voglio dire È la prima run Di un Souls-like È normale È così che funziona Abbiamo solo una fiasca Ma chi se ne fre- Io so cos'è quello Non so cosa serve Ma dovrebbe Andarsene in giro In teoria No? Perché l'ho visto In uno screen Di un caricamento Del gioco E in un trailer Dovrebbe essere Una cosa che si muove Quella E non so cosa serve Però Non so neanche se Devo ucciderla Non so neanche se è alleata Se è un NPC Io non ho idea Il vero Perché mi conoscete E mi distraggo Però credo che Se avessi visto Un occhio appeso Ad un muro Me ne sarei accorta Credo Per sicurezza Andrò a dare un'occhiata Alle vecchie catacombe Che abbiamo già esplorato Molto veloce Comunque Io come sempre Vi ricordo di lasciare Un commento Un like Ed iscrivervi al canale Se non lo avete già fatto Vi auguro Una buona giornata Un saluto a tutti Un saluto a tutti